Racale è una cittadina di quasi 11.000 abitanti della provincia di Lecce, distante dal capoluogo circa 54 chilometri e situata a 6 chilometri dal mare Ionio, sul quale si affaccia la località costiera di torre Suda che ne è frazione. Il suo nome originario era Eraclea, da Eraclio, fidato liberto dell'imperatore Cesare Augusto, il quale avrebbe contribuito alla nascita del piccolo villaggio di Racale, apponendo come stemma del paese la lupa che allatta i due gemelli Romolo e Remo. Secondo un'altra interpretazione, l'antico nome deriva dall'eroe e mito greco Eracle o Ercole. Pertanto Eraclea testimonierebbe questo legame con la civiltà e la cultura ellenica antica. Una leggenda popolare racconta che quando giunse San Nicola Pellegrino in terra di Racale, i cittadini non lo riconobbero e lo isolarono, credendo di avere a che fare con un folle straniero. Quando si accorsero poi che i loro figli lo adoravano e ascoltavano i suoi insegnamenti religiosi, lo cacciarono definitivamente dal paese. Da quel momento i Racalini vennero soprannominati Lipacci. Il castello è di impianto quattrocentesco e sorge su un presistente maniero di epoca normanna. Originariamente era di forma quadrilatera e contava ben quattro torri, poste ai quattro angoli. Nella prima metà del Cinquecento, la famiglia feudataria dei Tolomei si occupò di ristrutturare il castello, ingentilendolo con un'opera di restyling considerevole, che eliminò gli elementi architettonici strettamente legati alle funzioni difensive. Nel piazzale d'ingresso della facciata principale vi è un grande portale di matrice napoletana, sovrastato dallo stemma della famiglia Basurto e risalente allo stesso periodo di ristrutturazione dell'edificio, cioè il 1770. Inizialmente l'adrio del castello era molto più grande ed era in parte interessato dalla presenza della chiesa matrice del paese dedicata a San Giorgio. Esso è molto elegante e raffinato, abbellito da un loggiato ad archi a tutto sesto che poggiano su colonne singole rette da basi quadrate. di ristrutturare la famiglia Basurto e di ristrutturare la famiglia d'ingresso di gorge Basurto e di ristrutturare e il sindaco di Sardeggio in Piazza. Al di là della strada principale, si vi procede con la famiglia di Piazza. di ingresso al centro storico, dove fino al 1864 vi era la normanna portaterra, è presente la torre dell'orologio, che segna le ore e le ricorda i cittadini di Racale con i rintocchi delle campane. La torre originaria risale al 1123, anno di costruzione delle ormai inesistenti mura urbiche. Nel 1535 la torre venne trasformata in campanile e fu dotata di una campana risalente all'undicesimo secolo. Ma il tragico terremoto del 1743 danneggiò l'intera struttura, fu quindi ricostruita tenendo conto della sua originaria forma quadrata che venne mantenuta in ripresa. la torre dell'orologio. Situata sull'altro lato della strada, a pochi metri dalla torre dell'orologio e adiacente alla chiesa matrice di Racale vi è la torre campanaria, eretta anch'essa nel 1123. Inizialmente aveva la funzione di torre di guardia e oggi rappresenta l'ultima parte che rimane ancora in piedi dell'intera struttura originaria di portaterra. Anche se non era nata come torre campanaria ed era molto più bassa delle attuali dimensioni, la torre era dotata di una campana destinata a suonare l'allarme nei momenti di pericolo. Distrutta dal primo terremoto del 1395 che coinvolse l'intero territorio salentino, venne ricostruita la prima volta nel 1408, come dimostra una lapide, ormai corrosa dal tempo, posta al di sopra dell'ultima cornice della torre, accanto al simbolo della lupa. Nel cuore del centro storico di Racale si può ammirare la matrice chiesa di Santa Maria de Paradiso, eretta sulle spoglie della precedente struttura, distrutta nel terribile terremoto del 1743. La chiesa venne ricostruita e ultimata nel 1756 da Mastro Domenico Saracino di Martano e agli inizi del Novecento, l'aumento considerevole della popolazione e i problemi strutturali della chiesa stessa posero di nuovo l'esigenza di una sostanziale opera di ristrutturazione, che durò dal 1908 al 1912. Dell'originario edificio si conservano ancora alcuni freggi della struttura e anche alcuni affreschi di stampo bizantino che impreziosiscono le pareti laterali. Importante dal punto di vista culturale e storico è la Sagrestia, che può essere considerata un piccolo museo. Essa conserva monete romane, bizantine, veneziane, tutte rinvenute durante i lavori di restauro ed anche altri oggetti che per un istante permettono a chi li ammira di rivivere un antico passato. Piazza San Sebastiano è il cuore pulsante della città e rappresenta il punto di aggregazione sociale più importante per tutta Ragale, sin dai tempi antichi. In piazza vi è una pubblica fontana costruita nei primi anni del Novecento in pieno regime fascista. Su di essa vi è raffigurato lo stemma civico del comune di Ragale, con la lupa che allatta due gemelli Romolo e Remo, secondo la tipica simbologia romana. La fontana impreziosisce l'intera piazza e dona una piacevole sensazione di freschezza, molto utile nelle calde giornate battute dal sole. A pochi passi dal centro storico, di fronte a quella che un tempo era portaterra, vi è il bellissimo palazzo di Ippolito. Il palazzo risale alla fine dell'Ottocento, anche se poco si conosce della sua nascita e della sua storia. Nel 2012 l'amministrazione comunale ha provveduto al recupero edilizio e sociale del palazzo e sono state individuate due associazioni ed una cooperativa, che oggi lavorano in stretta cooperazione attraverso il coutilizzo degli spazi e la coprogettazione delle attività. Durante la fase di riqualificazione di Palazzo di Ippolito, la biblioteca comunale è stata trasferita in due stanze del piano terra. Al primo piano di Palazzo di Ippolito è oggi allestito il Museo dell'Emigrante ed una mostra fotografica a tema. Tutte le attività che oggi si svolgono all'interno del palazzo hanno una forte connessione con il centro storico e la popolazione di Racale e risultano essere un importante motore culturale. Allontanandosi dal centro storico si raggiunge lo stupendo parco comunale di recente ristrutturazione denominato I Giardini del Sole. Il nome è molto suggestivo e ben rispecchia la bellezza della natura che in questo piccolo angolo di paradiso prolifera grazie alla tentazione umana che ha saputo sapientemente valorizzarlo. Oggi I Giardini del Sole sono un punto di riferimento per Racale realizzato per offrire ai suoi concittadini uno spazio pubblico dove poter passare il tempo libero e socializzare, in un piccolo angolo completamente immerso nella natura, tra piante e fiori della macchia mediterranea. Il menhir Castelforte, un tempo chiamato Crocicchie, prende il nome da un feudo in territorio di Taviano, dove originariamente era situato, quando fu ritrovato e catalogato nel XIX secolo da un da Cosimo De Giorgi. Successivamente questo menhir venne ritrovato dal ricercatore Pino De Nuzzo in territorio di Ragale, a pochi metri dalla periferia esterna del villaggio di Castelforte, antico insediamento rupestre e raccalino. Da allora il menhir venne rinominato Castelforte. Si pensa che i menhir avessero in passato una specifica funzione rituale e la loro conformazione fa pensare alla simbologia fallica. Forse venivano utilizzati durante i primitivi riti simbolici per la fecondazione della Grande Dea, la Madre Terra. I dolmen sono la seconda testimonianza del megalitismo salentino. A Ragale è presente il dolmen Specchi, anche detto Ospina, che purtroppo non può essere ammirato nel suo splendore originario, in quanto è da tempo diroccato. Esso si trova ai piedi della Collina degli Specchi, sulla strada vecchia di campagna che da Ragale conduce a Torresuda, presso l'omonima masseria Ospina. L'ipotesi iniziale di grande fascino vedeva il dolmen come un altare sacrificale, ma molti studiosi identificano questo megalite come una sorta di tomba preistorica. La terza testimonianza del megalitismo salentino sono le specchie, che sono delle collinette di pietre ammassate nei punti più elevati del territorio. Molti ricercatori ritengono che le specchie fossero delle tombe monumentali erette in onore di un capo o un leader. Per questo motivo molte specchie del Salento sono state nel tempo distrutte, allo scopo di disseppellire i potetici tesori da esse ricoperti. Questa era la cosiddetta acchiatura. La chiesa Madonna dei Fiumi è una chiesa bizantina assorta su un antico insediamento di monaci italo-greci. Il luogo di culto bizantino era interamente scavato nella roccia e nel 1611, sui suoi ruderi, venne edificata una nuova struttura fortemente voluta dall'arciprete Don Pompeo de Benedictis. Secondo le testimonianze storiche, la nuova chiesetta dedicata alla Madonna dei Fiumi venne costruita per commemorare la memorabile vittoria dei Salentini contro gli invasori turchi, in una battaglia del 1547 che si consumò proprio in quei luoghi. Nel 1711 venne sostanzialmente ristrutturata e allargata e nel contempo venne realizzata una splendida volta emisferica. Venne arricchita con telle di notevoli dimensioni e venne completata l'opera di affresco che dona ancora oggi un invidiabile fascino all'intera navata. Tipico avamposto costiero, la marina di Torre Suda rappresenta un interessante aggregato urbano per la qualità architettonica dei manufatti presenti in loco. Tra questi, di assoluta importanza storico-culturale ed architettonica, vi è la torre costiera denominata Torre Suda o Torre di Suda. Si pensa che ad un certo punto della storia locale, la Torre di Avvistamento terminò la sua funzione militare per essere trasformata, sigillata e usata come cisterna d'acqua per gli abitanti della frazione. In seguito alla traspirazione dell'acqua inglobata al suo interno, la Torre sembrò sudare dalle pareti esterne, da qui il termine Suda. Molto suggestiva è anche la teoria secondo cui il nome Suda derivi da Udor, ossia acqua. Essa non sarebbe però quella presente un tempo nella torre, ma la foce di un corso d'acqua che era un tempo presente nella baia costiera di Suda. A partire dal 2012 è stato avviato un processo di rigenerazione urbana e territoriale nell'area adecente alla torre costiera. Nasce così il giardino mediterraneo costiero che permette ai frequentatori del posto di praticare sport a cielo aperto ed è fornito anche di un parco giochi per bambini. Tutta la costa della marina di Torre Suda è rocciosa, per lo più bassa e levigata, permettendo un facile accesso al mare. Le rocce della scogliera sono soggette al fenomeno del carcismo che nel corso degli anni con la sua incessante azione erosiva ha contribuito alla formazione di piccole grotte che riverberano il colore smeraldo del fondale cristallino. Tutto questo permette ai visitatori di godere di uno splendido panorama, assaporando il profumo della salsedine, mentre si immersi tra la vegetazione della scogliera e il blu del mare cristallino. A presto! A presto! A presto! A presto! Grazie a tutti.